La Nissa non vuole lasciare nulla di intentato per cercare di raggiungere un posto utile per i play-off. La società biancoscudata, infatti in vista anche della notevole distanza della sede della prossima partita, ha deciso di mandare la squadra in ritiro in una struttura alberghiera di Trapani. Giocatori, staff tecnico e dirigenti partiranno sabato dopo pranzo, alla volta del capoluogo trapanese, e domenica alle 13 si recheranno allo stadio di Paceico, dove si svolgerà il match contro il Marsala. I biancoscudati, se vogliono ancora credere nell'obiettivo play-off, devono assolutamente vincere questa gara. L'avversario non è nulla di trascendentale, occupa il penultimo posto della classifica, ma ha reso la vita difficile anche ad avversari di rango. Due turni fa, infatti ha bloccato in casa l'Akragas, chiudendo la gara con il risultato di 1-1 allo stadio Esseneto. Mister Angelo Bognanni per questa trasferta dovrebbe recuperare il forte difensore centrale senegalese Omar Diop, pedina fondamentale per la difesa biancoscudata, con lui una delle migliori del torneo. In avanti posto assicurato per Retucci, mentre a contendersi il ruolo di seconda punta saranno l'uruguaiano Guillermo Rizzi e il gelese Pardo, andato in gol domenica nella sfortunata partita casalinga con il Marineo. Centrocampo confermatissimo, con bisogno Ellario e Caronia, ma Camara scalpita dopo la brillante prestazione di domenica, così come l'albanese Brace, che ha dimostrato di attraversare un ottimo stato di forma. Grazie a tutti.